Pasticceria Boccia, nel cuore di Bari, in corso Sonnino 31, spicca l'unica sede. Impossibile non essere catturati dalle sciccherie dolciarie elegantemente esposte nelle vetrine. È una pasticceria di tradizione, sempre al passo con i tempi, che propone una quantità di qualità. Legata alla terra che la ospita, ne esalta i pregi con creazioni regionali. Il Pan dei Magi, il Fiocotto e il Dolce di Federico II. Offre ai clienti la possibilità di realizzare catering per tutte le occasioni, compleanni, anniversari, matrimoni e meeting aziendali, rendendo l'evento unico nel suo genere.